Tutti noi condividiamo l'amore per la natura, l'impegno a favore di un'agricoltura che rispetti gli uomini e l'ambiente. Il nostro obiettivo è di offrire alimenti biologici saporiti e sani, poiché per noi il biologico non è una moda passeggera, bensì una scelta consapevole di vita. Vieni nel nostro punto vendita, troverai prodotti alimentari, cosmetici, abbigliamento, prodotti per la casa e un favoloso salone di bellezza. Tutto questo solo da Pronatura, in via Fienili 6B a Bressanone, www.pronaturabioshop.com, Pronatura, tutto il bio della vita.